Siamo riuniti tutti insieme per adorare il nome del Signore. Siamo riuniti tutti insieme per adorare il nome del Signore. Siamo riuniti tutti insieme per adorare il nome del Signore Gesù. Adoriamo, adoriamo Gesù. Si dimentica te stesso, concentra la tua mente in Cristo. Si dimentica te stesso, concentra la tua mente in Cristo. Si dimentica te stesso, concentra la tua mente in Cristo Gesù. Adoriamo, adoriamo Gesù. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Accomodate. Glorie a Gesù Cristo. Glorie a Gesù Cristo. Alleluia. Genesi, capitolo 16. Al versetto 9. L'eterno apparve ad Abramo, alla querce di Mamre, mentre questi sedevano all'ingresso della sua tenda, durante il caldo del giorno. Abramo alzogliò gli occhi ed ecco che scorse tre uomini. I quali stavano dinanzi a lui e come li ebbe veduti, corse loro innanzi, all'ingresso della tenda. Si prostrò fino a terra e disse, De, Signore mio, se ho trovato grazia davanti a te, non passare senza fermarti dal tuo servo. De, lascia che si porti un po' d'acqua, lavatevi i piedi, riposatevi sotto quest'albero. Io andrò a prendere un pezzo di pane e vi fortificherete il cuore, poi continuerete il vostro cammino, poiché per questo siete passati presso al vostro servo. E quelli dissero, fa come hai detto. Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara, le disse, prendi subito tre misure di fior di farina, impassala, fa delle schiacciate. Poi Abramo corse all'armento, ne tolse un vitello tenere buono, lo diede a un servo il quale si affrettò a prepararlo. prese del burro, del latte, il vitello che era stato preparato e li posi davanti a loro. Ed egli se ne è stetti in piedi e presso di loro, sotto l'albero, e quelli mangiarono. Poi essi gli dissero, dove è Sara tua moglie? Ed egli rispose, è là nella tenda, è l'altro. Tornerò certamente da te fra un anno ed ecco Sara, tua moglie avrà un figlio. E Sara ascoltava l'ingresso della tenda che era dietro a lui. Ora Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni. E Sara non aveva più i corsi ordinari delle donne. E Sara rise dentro di sé dicendo, vecchia come sono, avrei io tali piacere. E anche il mio signore è vecchio. E l'Eterno disse ad Abramo, perché mai ha riso Sara, dicendo, partorirei io per davvero, vecchia come sono? Va! Egli cosa che sia troppo difficile per l'Eterno? al tempo fissato fra un anno tornerò e Sara avrà un figlio. Allora Sara negò dicendo, non ho il riso, perché ebbe paura. Ma egli disse, invece hai riso. l'Odo è Gesù Cristo. Poi quegli uomini si alzarono e volsero gli sguardi verso Sodoma e Abramo andava con loro per accomiatarli. e l'Eterno disse, ce l'erò io ad Abramo quello che sto per fare. L'Odo è Gesù Cristo. dice la scrittura che il più piccolo del regno di Dio è maggiore di Giovanni che è il più grande tra i profeti del vecchio patto. l'Odo è Gesù Cristo. Noi possiamo vedere come Dio il Signore si rapporta con coloro che lo amano. noi pensiamo che il Signore è lontano a volte dice difficile ascoltare la Sua voce ma non è così. Egli vuole avere un rapporto con noi. Egli vuole avere un rapporto personale con ognuno di noi. Gloria a Gesù Cristo. Egli è venuto e vuole parlare ad ognuno di noi. Vuole stabilire. Abramo è il padre. Dice nostro padre Abramo. È il padre della fede. Possiamo dire anche noi nostro padre Abramo. perché è un padre. Da Abramo nasce il popolo di Israele. Da Abramo nasce il popolo della fede. Il popolo della fede nasce attraverso Abramo. L'Odo è Gesù Cristo. come Egli parlò ad Abramo vuole parlare ad ognuno di noi. che è un piccolo che è un po' l'Odo. No, l'Odo è Gesù Cristo. Allora, che è un po' l'Odo. Alleluia Ma questa mattina abbiamo letto alcune scritture e abbiamo visto che Dio rivela la sua volontà ai suoi servi e li chiama amici Abramo amico di Dio Lode Gesù Cristo Io vorrei che il Signore dicesse lo stesso di me non so se è qualcosa che possiamo condividere se questa sera è un sentimento condivisibile amico di Dio vorreste che il Signore dicesse il tuo nome e insieme potesse dire amico di Dio tu pronuncia il tuo nome e dici pronuncia il tuo nome e dici amico di Dio io dico Tony amico di Dio pronuncia il tuo nome come ti dice che effetto ti fa Nicola amico di Dio io ho un amico che mi ama mi ama non mi abbandona io ho un amico che mi ama il tuo nome è Gesù un amico che mi ama un amico che mi ama un amico che mi ama è Gesù un amico che mi ama un amico che mi ama un amico che mi ama è Gesù gloria a Gesù Cristo gloria a Gesù Cristo alleluia alleluia Egli dice che ci tratta non come servi ma come amici questo è il mio comandamento che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati nessun amore più grande che quello di dare la sua vita per i suoi amici voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando io non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il Signore ma vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio non siete voi che avete scelto me ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto sia permanente affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome Egli ve lo dia questo vi comando che vi amiate gli uni gli altri gloria a Gesù Cristo amici di Dio gloria a Gesù Cristo e il Signore dice ce l'orò io ad Abramo quello che sto per fare il Signore vuole rivelare a noi vuole rivelare a noi la sua volontà ci vuole rivelare qual è il il mistero della fede Egli è venuto per rivelare per fare conoscere a noi dice perché? perché siamo Suoi amici questa sera vuoi essere amico di Dio? vuoi essere catalogato catalogata come amico amica di Dio gloria a Gesù Cristo ma abbiamo magari qualche amico qualche amica cosa avviene con l'amicizia? si condivide quando vediamo le cose intime problemi con un amico tu ti confidi cerchi conforto il Signore è venuto è venuto per essere nostro amico gloria a Gesù Cristo amico di Dio io quando sento questa parola mi mi tocca e mi emoziona dentro Egli vuole essere un nostro amico l'odo di Gesù Cristo e il Signore rivelò ad Abramo quello che egli voleva fare a Sodoma e Gomorra Egli ci vuole rivelare qual è la sua volontà anche a noi si vuole rivelare Egli è venuto per rivelarsi gloria a Gesù Cristo e ci sta rivelando che Egli sta per tornare gloria a Gesù Cristo Egli sta tornando e sta preparando il suo popolo alla sua venuta ci sta preparando alla sua venuta dice chi potrà attendere a questa parola chi coloro che sono chiamati a coloro che è data questa parola possono riceverla a loro sì loro sì possono accettare questa parola Alleluia gloria Gesù Cristo nessun amore è più grande che quello di dare la sua vita per i suoi amici voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando l'oda Gesù Cristo noi possiamo camminare percorrendo tante vie facendo tante scelte questa mattina abbiamo visto che le promesse di Dio verso ognuno di noi sono a condizione le promesse di Dio sono a condizione e la condizione primaria è dice a patto che voi camminiate nella mia via patto che noi percorriamo la sua via l'oda Gesù Cristo egli ci chiama primariamente a percorrere la via che ci porta a incontrarlo e questa via noi la percorriamo non è una via fisica è una via spirituale di indirizzo spirituale dove l'obiettivo finale è lui se osservate i miei comandamenti dimorerete nel mio amore come io ho osservato i comandamenti del padre mio e dimoro nel suo amore e gli ci vuole dare le indicazioni per essere amici suoi l'oda Gesù Cristo se osservate i miei comandamenti dimorerete nel mio amore come io ho osservato i comandamenti del padre mio e dimoro nel suo amore egli si pone come esempio di ubbidienza al padre e l'invito è per vivere queste promesse le promesse di Dio noi le possiamo vivere ma sono promesse con un patto vediamo cosa dice il Signore ad Abramo al nostro padre Abramo e al versetto 19 dice il Signore dice affinché si attengono alla via dell'Eterno per praticare la giustizia e l'equità onde l'Eterno ponga ad effetto approda Abramo quello che egli ha promesso l'Odo è Gesù Cristo noi possiamo entrare nelle promesse possiamo entrare nella terra delle promesse nella promessa di Dio l'Odo è Gesù Cristo ma noi dobbiamo camminare praticare la sua via primariamente la sua via l'Odo è Gesù Cristo non la nostra via non la via ma la sua via dice praticare proprio così come è scritto è dà il senso dice che si attengono alla mia via gloria gloria è Gesù Cristo se uno non dimora in me è gettato via come il tralcio si secca e codessi tralci si raccolgono si gettono nel fuoco e si bruciano se dimorate in me e le mie parole dimorono in voi se dimorate in me e le mie parole dimorono in voi domandate quel che volete e vi sarà fatto l'odo è Gesù Cristo egli ci invita a vivere questa promessa queste promesse ineffabili che nessun uomo può pronunziare non sono promesse umane sono promesse ineffabili di Dio ma sono per ognuno di noi gloria è Gesù Cristo gloria è Gesù Cristo io voglio pregare chiudiamo gli occhi Francesco, vieni avanti io voglio pregare per te così tenete gli occhi chiusi e preghiamo gloria è Gesù Cristo 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 Gloria a Gesù Cristo Spirito Santo, grazie Gloria a Gesù Cristo Egli è venuto per rivelare quello che è misterioso e il mistero viene tolto in Lui il mistero viene tolto e coloro che lo amano possono dire che il Signore si sta rivelando a me e non c'è più un mistero non ci sono più i misteri Io sono la vita al capitolo 15 di Giovanni Io sono la vera vita e il padre mio è il vignaiuolo ogni tal tralcio che in me non dà frutto egli lo toglie via e ogni tralcio che dà frutto lo rimonda affinché ne dia di più se io vi dico Signore io per me desidero di vivere questa parola però lo dovete desiderare voi se noi lo desideriamo noi passeremo noi passeremo e vivremo questa parola una parola anche di prove una parola di prove fratelli ma egli qua ci dice che rimonda affinché ogni tralcio affinché ne dia di più frutto l'oda di Gesù Cristo tu accetti di essere rimondato io ogni tanto quando qualcuno viene rimondato dal Signore ricevo reazioni reazioni non accettano ma se tu lo chiedi questa sera io poi te lo ricorderò e ti dirò ma non hai chiesto tu di crescere chi vuole crescere? chi dice va bene così nessuno all'unanimità l'oda di Gesù Cristo per crescere passeremo attraverso molte prove l'oda di Gesù Cristo affinché la fede nella persona di Gesù Cristo sia sempre più pura più forte e dice che le prove in cui passeremo sono prove a volte durissime sono come il fuoco ma fatevi animo ha detto il Signore io sono con voi sino alla fine dell'età presente sino alla fine dell'età presente perché a volte il fuoco serve per purificare sai come si purifica l'oro e l'argento attraverso il croggiolo attraverso il fuoco questi metalli devono diventare liquidi proprio affinché tutto quello che tutto quello che negativo impuro esca fuori l'oda di Gesù Cristo tu guarda cosa avviene nelle prove nelle prove cosa avviene cosa esce fuori esce fuori le scorie escono fuori le scorie l'oro del Gesù Cristo dimorate in me e io dimorerò in voi dimorate in me e io dimorerò come il tralcio non può da sé dare frutto se non rimane nella vita così neppure voi se non dimorate in me per alcuni questo è mistero per altri è molto chiaro dice se dimori in me porterai molto frutto l'oda di Gesù Cristo questa mattina abbiamo ricevuto una promessa il Signore poi leggendo quel passo del capitolo 18 di Genesi vediamo che lotte chiede una città la salvezza di una città e Dio glielo concede Dio gli concede la salvezza di una città intera io credo che gli ci concederà la salvezza di chi noi chiediamo al Signore l'oda di Gesù Cristo io ti farò questa grazia disse il Signore per amore tuo salverò quella città chiediamo al Signore la salvezza dei nostri cari chiediamo questa grazia se noi se noi chiediamo questa grazia se tu glielo chiedi proprio lo devi pronunziare glielo devi chiedere con le tue labbra devi chiedere la salvezza la liberazione dei tuoi cari e il Signore risponderà se ha risposta a lotte io credo che risponderà ancora di più a noi se ha risposta a lotte ancora di più risponderà a noi l'oda Gesù Cristo dice per amore tuo salverò quella città gloria a Gesù Cristo gloria a Gesù Cristo io sono la vita voi siete i tralci non pensiamo di essere la vita dice il Signore Gesù Cristo noi siamo i tralci non la vita e noi portiamo frutto se siamo innestati nell'albero della vita l'uomo di Gesù Cristo i frutti di vita si portano se siamo innestati nell'albero della vita colui che demora in me nel quale io dimoro porta molto frutto colui che dimora in me nel quale io dimoro porta molto frutto è la preghiera del pastore che è la preghiera di Gesù è la preghiera del Signore che possiamo dimorare in lui per portare molto frutto molto frutto dice perché senza di me non potete fare nulla qualcuno pensava che da solo con la sua forza con la sua sapienza dice senza di me non puoi fare nulla nebucanezzer era il re di Babilonia di cui il Signore si servì per purificare il popolo di Israele quando Israele entrò nella ribellione Dio fa sorgere sempre una verga un bastone se tu sei chiamato secondo il suo proponimento sorgerà comunque in qualche maniera fece sorgere nebucanezzer non era del popolo di Israele era un popolo era un re straniero e Dio si servì di questo re per purificare il popolo di Israele ma quando poi questo re pensò di essere il più grande il più potente tutto gli era dovuto Dio lo fece diventare come un animale freddò le sembianze di animale e stese fuori all'aperto come un animale finché il suo cuore non diventò umile e mansueto per chiedere a Dio per riconoscere il Signore l'ho di Gesù Cristo dice colui che dimori in me nel quale io dimoro apporta molto frutto ecco Egli ci sta invitando a vivere da tralci innestati nell'albero della vita questo invito è un invito di vita sembra è un invito di vita che produce vita in ognuno di noi l'ho di Gesù Cristo se uno dice il Signore Gesù non dimori in me è gettato via come il tralcio e si secca cotesti tralci si raccolgono si gettano nel fuoco e si bruciano noi abbiamo vita se siamo collegati alla vera vita che è il Signore Gesù Cristo la vera vita è Lui Egli è venuto sulla terra ha chiamato i Suoi discepoli ha chiamato gli apostoli e la Chiesa si è formata attraverso la chiamata degli apostoli la Chiesa il fondamento della Chiesa è l'opera della croce che è fondata sul ministero apostolico l'Ode Gesù Cristo e ha tramandato sino ad oggi Egli ha trasmesso sino ad oggi il regno di Dio l'Ode Gesù Cristo che è invisibile è un regno che a volte è più bello quello di fuori è più interessante ma non c'è la vita la vita è nel regno di Dio se tu cerchi vita se cerchi liberazione se cerchi il rapporto con Dio Dio è pronto a farsi trovare l'Ode Gesù Cristo se dimorate in me e le mie parole dimorino in voi se dimorate in me e le mie parole dimorino in voi domandate domandate quel che volete e vi sarà fatto gloria è Gesù Cristo è una promessa del Signore Gesù Cristo questa è una promessa a condizione sempre tu vedi questa promessa è sempre a condizione dice se dimorate in me se noi siamo dei tralci collegati alla vita e le sue parole si dimorano in noi l'Ode Gesù Cristo dice domandate quel che volete e Dio ci chiama a vivere questo rapporto di vita per vivere il potere del regno gloria Gesù Cristo io se c'è tempo volevo una testimonianza la sorella Giovanna viene sorella Giovanna io vi accenno per farvi comprendere nostra sorella Giovanna abita a Milano ed io vedendo il suo cuore per il Signore gli ho affidato un incarico perché il Signore è alla ricerca di coloro che lo amano che lo servono l'Ode Gesù Cristo e io gli ho detto che se tu cerchi e fai la volontà del Signore il Signore è per te e in funzione di quello che tu vuoi fare per il Signore Dio ti darà il potere su questa terra hai iniziato nel lavoro vero Giovanna? sì lei lavora in un lavoro statale oggi lei è una dirigente sindacale quando doveva entrare non voleva era dice no non sono capace non so scrivere non so parlare che devo fare e io gli ho detto fallo nel nome di Gesù Cristo ti aiuto io il mio aiuto c'è sempre io sono sempre presente con la preghiera ma gli ho promesso che gli avrei scritto pure le lettere ma grazie a Dio il Signore è intervenuto è vero? sì il Signore gli ha dato il tempo per servirlo poi dice come facciamo a incontrarci con i fratelli e dice guarda lei c'è una casa se vi dico quanti metri quadrati è voi non ci crederete 28 metri quadrati ma te 30 con tutti i balconi senza balconi è 28 ah i fratelli lei sa che fa sapete che fa riunisci i fratelli perché il pastore gliel'ha chiesto e il riunirli e di fare comunione c'è pure il mio omonimo il figlio di Antonella l'uomo di Gesù Cristo e gli ho detto io gli ho dato una parola perché è così opera il Signore Dio opera attraverso chi ha fede è per fede chiama Abramo per fede affida un incarico per fede io gli ho detto cercate una casa dice ma come non è possibile se cerchi troverai con i miei calcoli ora vi racconta vi racconta vi racconta questo sapete perché io vi dico così perché nel suo cuore ha ammesso di servire il Signore gli ho detto io fallo per il Signore serve il Signore che Dio ti darà il resto quale faccio quello della casa o quello della casa dai quello della casa questo è l'ultimo grazie a Dio perché la mia più grande fortuna è quella di essere stata scelta dal Signore attraverso un mandato mi ricordo la prima volta che è venuto il pastore Tony a casa mia che per me è stata un'immensa gioia e allora ha detto che è carina questa casa è piccola dice è tua dico no non è mia allora dice no mi dice trovati una casa e mi ha detto vabbè comprati una casa io ho iniziato a fare tutto un ragionamento dico no non è possibile perché il mio stipendio mi dice quattro calcoli umanamente impossibile e poi dico vabbè però mi veniva in mente questa parola che mi diceva lui sempre cerca io guardavo a destra e a sinistra agenzie e cose però non era possibile poi un giorno mi fa io sono sempre stata in contatto con lui sempre ho avuto anche altri problemi che grazie a Dio per la sua presenza e la presenza di Dio ma soprattutto perché si è servito di lui attraverso le sue parole per rincuorarmi tante cose poi un giorno per farla breve perché se no mi fa dice sai a Milano ci sono un paio di fratelli sorelle qualcuno si è convertito qualcuno si è battezzato addirittura e allora mi fa riunisci lei dico sta casa tanto piccola come devo fare comunque ho iniziato dico vabbè se lui mi ha detto così dice tu fai inizia ci vedrai che il signore ti darà una casa più grande dico vabbè a settembre mi metto e riunisco queste persone addirittura ci dice portare i seggi perché comunque non bastavano le sedie allora quattro sedie noi eravamo in dieci e allora si sono organizzati sedie a seguito allora iniziamo la prima sera il primo giorno allora sono venuti abbiamo preso la pizza lui mi ha detto non dire e riunisce una pizza una tombolata una cosa felicissimi tutti e sinceramente io mi sono sentita meglio mi sono sentita felice insomma non ho avuto problemi di spazi così c'era spazio per tutti la seconda volta dico Giovanna quando mi chiamarono Giovanna ma quando ci riuniamo quello ho fatto pure un gruppo su whatsapp il gruppo Pace è il gruppo dei fratelli di Milano più il pastore Tony più mio nipote Carmelino allora cercando lui il pastore cerca di vedere guarda un giorno verso novembre verso la metà di novembre più di novembre mi chiamo un'agenzia in un posto dove io non volevo andare però vado a vedere sta casa vado a vedere sta casa e io cavolo comunque bellina carina dico vabbè questa era giusta per me mi fici i calcoli degli spazi allora poi ho chiamato lui insomma sono sempre in contatto con tutte e due allora vado dico ah boh dico pastore Tony che devo fare dico tu vai fai sta proposta faccio la prima no non ho fatto quello che mi ha detto l'ho fatto la mia proposta non me l'hanno accettata poi dopo di che il pastore Tony mi fa tu non ti accettare lui dice tentiamo ancora incominciamo a pregare tutti no prega lui prega Carmelo e io l'altra domenica scorsa due domeniche faccio un altro incontro di preghiera con incontro di preghiera a vicimi pizzoccheri cioè abbiamo fatto sta sta mangiata così e poi mi chiamano di nuovo che una domenica no venerdì vado venerdì prima dell'otto di dicembre vado a ritirare l'assegno perché praticamente la proposta non mi era stata accettata e non mi hanno dato nessuna possibilità di dire anzi addirittura avevano fatto un prezzo esorbitante che io non e il pastore preghiamo non ti preoccupare preghiamo una domenica di domenica le agenzie chiuse giusto mi chiamano si senta si dice se mi puoi mi mandano un messaggio se mi puoi richiamare dice ho una un messaggio da dirti molto importante dice guarda se vuoi quella casa la signora te la dà posso dire il prezzo pure te la dà per 105 mila euro come devo ricordare io gli dissi 105 mila euro faglia la proposta di 105 mila euro era 130 si era 130 io gli ho detto faglia la proposta prima a 100 si e l'hanno rifiutata poi ho detto 105 mila euro quando sono andata a ritirare l'assegno non mi sono ricordata non me l'hanno voluto non mi hanno dato la possibilità di poter dire nulla e quindi nemmeno di dire questo e poi domenica mi hanno chiamata dice sai quelle dell'agenzia dice guarda lei aveva fatto la controproposta scritta di 115 mila euro e io gli ho detto non se ne parla neanche cioè proprio manco lontanamente e di solito l'agenzia dicono sì ma signora tentiamo niente zero assoluto io zitta mi prendo sto cosa e me ne vado domenica mi chiamano e mi fanno signora guardi se la signora la proprietaria se vuole le dà la casa per 105 mila euro io restai era mezza asciata fredda così gli ho risposto che cosa l'ha fatta addolcire tra me lui dice ma non lo so dice questa se ne vuole andare da milano dice comunque vabbè siccome veniva domenica veniva lunedì che a milano il 7 di dicembre è Sant'Ambrogio poi martedì è l'otto dell'immacolata ed era chiuso quindi si parlava mercoledì subito lo chiamo ovviamente in contatto con lui con lui dico subito il pastore Doni fa questo è un miracolo vero o no? sì perché lei sollecitata da tante pressioni non sapeva dice che devo fare è un miracolo il signore dà risposta firma subito infatti poi siccome lei è un po' emozionata sapete che non mi ricordo tu sai che è successo la signora gli conferma 105 quando si rivedono ne volevate chiudare non la voleva chiudare dopo aver firmato questa proposta non gliela voleva più dare dice no ma sono stata confusa se ho firmato per questa cifra non lo so è il signore Gesù Cristo che ti ha voltato le cose a tuo favore ringraziolo e servilo nel nome di Gesù Cristo perché questa vuole vendere a 130 però ormai ha firmato noi diciamo questa casa è per te infatti poi per un motivo io dico questo perché devo fare i culti nella casa più grande di avere più gente amén amén e convertire ancora più persone grazie a te pastore è una casa voluta dal signore ma grazie a lui che si è servito il signore per dirmi le cose si serve sempre del mandato ricordati Dio opera in questa maniera se tu lo vuoi servire se vuoi fare qualcosa per lui lui ti darà gli strumenti per farlo e potrai usufruire di quello che egli fa per l'opera sua l'ode Gesù Cristo capite come opera il signore in maniera sovrannaturale quella era confusa dice no dice ma ho sbagliato l'ode Gesù Cristo e il signore dice nel libro dei re che un giorno i nemici del popolo di Dio che erano in numero molto più grande del popolo di Israele c'era il servo del profeta disse qua ci distruggono tutti non ci sarà possibilità per noi ma il signore fece venire uno spirito di confusione dice una traduzione dice uno spirito di abbarbaglio cioè si uccisero fra di loro ma no uno spirito di confusione questa mattina abbiamo letto che quando cercarono di prendere lotte non trovarono alla porta gli abitanti del paese perché erano stati colpiti da cecità se il signore ti vuole dare qualcosa se lui dice sì ma dobbiamo stare secondo la sua volontà dobbiamo dimorare nella vita egli ha la vita e noi siamo i tralci dice qualsiasi cosa noi chiederemo egli lo farà per noi nel nome di Gesù Cristo amén e questa testimonianza testimonia che quello che è scritto è vero alziamoci in piedi gloria è Gesù Cristo gloria è Gesù Cristo chi sente può pregare alleluia Spirito Santo Signore grazie Signore grazie per l'opera tua grazie nel nome di Gesù Cristo gloria è Gesù Cristo alleluia urratai che ne ho soco fa che io possa fare la tua volontà Signore farla via questa parola sigilla nel tuo cuore fa che tu Signore possa tornare dentro di me Signore possa essere uno strumento tuo appena possa portare molto tutto Signore Padre Santo ti prego per il dici grandemente il nostro pastore Signore Signore grazie per come ti sei servito di lui anche in questa terra Signore Padre per il dici la sua famiglia e per il dici tutta l'opera alleluia gloria è Gesù Cristo gloria è Gesù Cristo Signore grazie Padre grazie nel nome di Gesù Cristo gloria è Gesù Cristo gloria è Gesù Cristo gloria è Gesù Cristo gloria è Gesù Cristo entra nella sua dimora entra a fare parte dell'albero della vita e le promesse sue saranno per te nel nome di Gesù Cristo gloria è Gesù Cristo cerca le promesse e le otterrai nel nome di Gesù Cristo Signore ti vogliamo pregare per l'offerta Padre benedici questa offerta Signore tu conosci il bisogno dell'opera intervieni tu nel nome di Gesù Cristo Amen gloria è Gesù Cristo gloria è Gesù Cristo Alleluia Santo Santo Gesù Cristo che volete dimorate in me dimorate in me i miei diarole dimorano in voi mandate quel che volete vi sarà fatto vi sarà fatto dimorate in me alleluia gloria a Gesù Cristo gloria a Gesù Cristo gloria a Gesù Cristo digli al Signore che vuoi dimorare in lui digli che vuoi vivere la tua vita collegata alla sua alleluia gloria a Gesù Cristo tutto quello che tu gli chiederai ti sarà fatto tutto quello che tu gli chiederai ti sarà fatto lo ha detto nostro Signore Gesù Cristo sono parole sue la promessa è sua ed egli è pronto a farla a compierla per coloro che vivono questa parola gloria a Gesù Cristo se vivi questa parola questa promessa è per te nel nome di Gesù Cristo gloria a Gesù Cristo gloria a Gesù Cristo Signore Gesù nella sera in cui fu tradito e gli prese il pane e disse questo è il mio corpo che viene dato per voi mangiatene tutti fate questo in memoria di me poi prese il calice e disse questo è il mio sangue che viene versato per voi bevetene tutti fate questo in memoria di me egli ci invita a vivere questo rapporto intimo di comunione con lui la comunione del figlio col padre la comunione della chiesa della sposa con lo sposo ed egli ci sta invitando in questo indirizzo di vita indirizzo di comunione nel nome di Gesù Cristo gloria a Gesù Cristo signore padre grazie gloria a Gesù Cristo gloria a Gesù Cristo alleluia gloria a Gesù gloria a Gesù Cristo no no che sino che gloria a Gesù gloria a Gesù基 la mia esperanza gloria yoga gloria a Gesù Cristo Tu verrai a noi, le promesse dicono che ti amo il volto tuo, la nazione guarirà e tu verrai a noi. Tu verrai a noi, le promesse dicono che ti amo il volto tuo, la nazione guarirà e tu verrai a noi. Tu verrai a noi, le promesse dicono che ti amo il volto tuo, la nazione guarirà e tu verrai a noi. Grazie. 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 Grazie.